Senza di lui non saremmo qui stasera a parlare, parlo di Carlo Di Somma che è in rappresentanza di RDS Studio ha organizzato, ha ideato questo evento insieme alle Gemelle Felleppa perché è lui che rappresenta le Gemelle Felleppa proprio qui in Sicilia come è nata questa idea di questo primo evento qui lontano anche da quelli che sono i circuiti standard della moda, quindi Milano e le grandi capitali? Le Gemelle Felleppa meritano anche questo, io sono un grandissimo stimatore delle loro collezioni, della loro bravura e ho detto ma perché non unire questo grande estro e stile che hanno queste due giovani stiliste e portarlo qui da noi in Sicilia lontano da tutti quei palcoscenici diciamo che ormai sono visti e rivisti, ho detto divertiamoci anche noi un pochettino con le loro bellissime collezioni Senti anche tu sei giovanissimo come loro, quanto è importante per un giovane avere sempre un contatto con la creatività e con diverse contaminazioni, perché qui ci sono tanti giovani che hanno collaborato alla riuscita di questo evento ognuno ci ha messo del suo, quindi quanto è importante anche questo? È importantissimo, infatti la riuscita di questo evento è grazie a un team fantastico di tutti, quasi tutti giovani ma chi più chi meno, ma è stata una collaborazione fantastica dove tutti hanno dato proprio il massimo, si sono impegnati la location spettacolare, c'è una location più bella di queste qua in Sicilia, penso che non se ne trovano ma neanche al nord e poi alta classe, alta classe sia loro che tutti quanti i collaboratori a questa splendida serata Grazie mille Carlo, allora speriamo che questo diventi poi un appuntamento fisso, visto che le fele ormai sono quasi un po' anche siciliane Speriamo, speriamo diventi un appuntamento fisso, ma loro ci tengono molto, amano la Sicilia e noi amiamo loro